Musica Benvenuti alla scuola dell'infanzia paritaria Ettore Riola La scuola si trova a San Giorgio del Sanio, alla via Tommaso Rossi numero 3 Tra le più longeve del territorio rappresenta un punto di riferimento nel contesto comunale per la qualità dell'offerta formativa, per gli spazi ampi, luminosi, perfettamente nitidi ed igienizzati per la presenza di uno spazio antistante formato da cortile e giardino per la qualità eccellente e controllata della sua cucina magistralmente gestita I titolari, nei loro 30 anni di attività e presenza, hanno accudito la scuola con cura, amore, dedizione, affidabilità ed impegno La scuola Ettore Riola nel tempo ha stabilito rapporti di collaborazione con associazioni e strutture territoriali È sua ferma intenzione di intensificare tali rapporti poiché è convinta che la scuola deve svolgere la sua funzione di promozione culturale nel territorio e che può arricchirsi attraverso le varie competenze presenti nell'associazionismo locale Tutti gli obiettivi della coordinatrice e del corpo insegnanti sono finalizzati a comprendere, educare, istruire coinvolgere socialmente ogni singolo bambino mirando al superamento di differenze etniche, religiose e all'ottimizzazione della vita di gruppo Tenendo conto delle caratteristiche proprie dell'età dei bambini del loro bagaglio personale di conoscenza e dei loro bisogni formativi la scuola intende perseguire le proprie finalità educative programmando percorsi specifici di apprendimento per ogni bambino Si pone obiettivi di maturazione dell'identità, conquista dell'autonomia interiorizzazione e rispetto dei valori, del libero pensiero, di rafforzamento degli atteggiamenti di sicurezza Le docenti, attraverso verifiche iniziali ed in itinere, rileveranno i punti su cui è necessario soffermarsi per un opportuno approfondimento, calibrando i percorsi didattici in base all'esigenza degli alunni delle proprie sezioni Gli alunni infatti sono divisi in sezioni Sezione Cuccinelle, che accoglie bambini fino a 3 anni Sezione Funghetti, che accoglie bimbi di 3 anni Sezione Girasoli, che accoglie bimbi di 4 e 5 anni La scuola è aperta dal lunedì al venerdì, dalle 7.45 alle 17 Ed il sabato dalle 8 alle 13 Ogni momento della giornata è scandito da attività Siano esse la lettura di filastrocche, attività di laboratori, attività motoria, igiene personale, pasto, merenda, attività ludiche e progettualità La scuola segue la propria progettualità, dando vita ad ogni anno scolastico a nuovi percorsi di apprendimento Alcuni laboratori, però, restano una costante ed espletati durante l'anno scolastico Come il laboratorio di psicomotricità, con l'obiettivo di conoscere e migliorare le capacità di organizzazione dello spazio Nonché riconoscere il proprio spazio corporeo Il laboratorio di inglese attraverso il quale si intende stimolare e valorizzare la conoscenza di un altro codice linguistico La religione cattolica, che offre il suo specifico contributo al pieno sviluppo della personalità dei bambini Il progetto grafico pittorico si propone di attrezzare i bambini per un'efficace difesa nei confronti dei rischi di omologazione immaginativa ed ideativa E stimolare ed incentivare la loro creatività e fantasia Vi aspettiamo alla Scuola dell'infanzia paritaria Ettore Riola